Dopo aver avuto questo risultato ai lettori del Corriere dello Sport, esplorando, ha il piacere di presentarvi per la prima volta in Italia, dopo l'annuncio del suo ritiro per la prima volta a Roma, di nuovo di fronte, accanto questa volta, uno all'altro, Carlos Monzon. Ciao, benvenuto. Ciao, benvenuto. Un abbraccio, un abbraccio. Bene. Bene, dove ci mettiamo? Qui. Benvenuto. Benvenuto. Carlos Monzon, tiratissimo come se uscesse adesso da un'operazione di peso per un nuovo combattimento. Forse è meglio che si metta l'auricolare. Capisce l'italiano, Carlos? Sì, viene. Ecco, in grandissima forma. Pensate che ha, non diciamo l'età, ma intorno ai 43-44 anni. 44 anni. Io invece torno ai 50. No, no, no. Ecco, che sensazione vi fa trovarvi uno accanto all'altro dopo tanti anni? Che impressione? La impressione è che quello che abbiamo visto ultimamente ci siamo visti circa 4-5 anni fa in una convenzione di ex pugili, poi a New York, poi anche un festival cinematografico in Germania. Quindi abbiamo sempre avuto dei contatti, una forma di rivalità ma che è abbastanza buona nell'arco degli anni. Ecco, abbiamo parlato un attimo fa di una dote che io mi ero dimenticato di citare e che è la dote che accompagna l'uomo che sale sul ring, il coraggio. Qual è una definizione del coraggio di Carlos Monzon? Il mio, la mia definizione è quando c'è un, durante un combattimento, io credo che il rivale che ho di fronte a me, che cerca di colpirmi, io cerco di evitarlo. Sono io quei compattenti, contro lui, per Pirlo, ma al di là di questo, nel 70, nel 70, quando è il combattimento con Nino, e grazie a lui sono quella che sono ora, perché lui mi diede l'opportunità di diventare campione del mondo. Ecco, avete sentito questa spinta che deve cercare un uomo che sale sul ring e sente che l'uomo che ha di fronte può essere l'uomo che porta via il pane al figlio. Ed è questo che dà poi la spinta per superare anche quella che può essere l'amicizia fuori del ring. Una volta che abbiamo finito il combattimento è diverso. Ha mai pensato in tanti anni, di fronte a un avversario, forse è un uomo nuovo, come è successo a Benvenuti con lei? Un avversario difficile? Sì, è pelleato con un uomo. Sì, mi è capitato di incontrarmi, ho combattuto con altri che erano più giovani di me, che poi volevano diventare campioni del mondo, che cercano di portarmi via il titolo. Però l'esperienza che io avevo sul ring era di gran lunga superiore a quella che aveva la carica che avevano loro. Quando io invece ero più giovane all'inizio della mia carriera. Ecco, un uomo duro nella vita, è anche un uomo duro sul ring? No, non lo credo, non necessariamente. Un uomo duro fuori dal ring? Ma arriva nel ring? No, devo lavorare come un computer nella mia testa. Ecco, per esempio questo è già un aspetto nuovo che esce di Monzon, un uomo che non combatteva soltanto distinto, in questo caso lo chiedo proprio a Nino Benvenuti, perché molte volte, diciamo, anche i critici e gli esperti di Pugilato hanno detto Monzon è forza brutta. Con la forza brutta non si fa niente, se non c'è il cervello... Se non ha la testa la forza non serve. No, no, se non ha la testa la forza non serve. Ecco, sentiamo Carlo del Pesanino Benvenuti. Ma direi che Carlo aveva delle qualità che ha espresso sempre molto bene sul ring, ha imparato il Pugilato, basandosi prima di tutto sul suo istinto naturale, quello di un'aggressività incredibile che è difficile trovare in altri campioni. E poi, su una condizione fisica, morfologica, che lo metteva nelle condizioni di essere di molto superiore a gran parte degli avversari che aveva di fronte. Io ancora ero uno meno danneggiato, pagavo meno perché anch'io sono abbastanza alto e ho delle qualità morfologiche di longelinità che mi mettono nelle condizioni di essere superiore ad altri. Lui mi superava moltissimo ancora. Ecco, lui era il Pugile che di fronte a qualsiasi atleta partiva con un grande vantaggio. Il vantaggio fisico, il vantaggio di un Pugilato istintivo naturale che era molto preciso e molto anche tecnicamente raffinato, sembrava di no ma lo era. E poi quel coraggio, quella sua voglia, quella sua ansietà, quel suo desiderio di vincere, vincere per sé, per i suoi figli, per tutto quello che aveva, quelle motivazioni, che lo mettevano nelle condizioni di vincere i combattimenti. Ecco, ha mai pensato Carlos Monzón a un ritorno clamoroso dopo il ritiro? Nel 1977 quello che sembrava un uomo che non avrebbe mai accettato di uscire dal ring ha detto, imbattuto, mi ritiro. Sì, ho avuto due offerte per combattere quando ero ancora campione del mondo, ma la soluzione mondiale mi obbligò con due Pugili e poi con... Sì, mi davano l'opportunità di difendere il mio titolo ma... Ma ci avevano già anche un anno più di me e non... Mentre loro mi tiravano un pugno io riuscivo a schivarlo. Ma io direi che questo è molto bello, da parte di un grande atleta, di un grande campione come Carlos Monzón, ricordare il momento con grande serenità, anche con grande equilibrio, il momento in cui si è reso conto che non avrebbe più potuto combattere ai vertici e ha avuto il coraggio di dire no. Ecco, ma quanto pesa questa decisione? Questo vorrei... Anch'io vorrei chiederlo a lui perché io devo dire una cosa, la sofferenza che ho avuto nel... di là un anno, diciamo un anno dopo la sconfitta di Monte Carlo, io ho deciso di non combattere più e l'ho deciso proprio ufficialmente, ufficializzando la cosa. Devo dire che sono stato tentato di ritornare sul ring ancora e non ci sono ritornato solo perché avevo dato la parola e che era per me molto importante in maniera ufficiale che io non avrei mai più combattuto. Però devo dire che una cosa sembra, sembra sciocca, ma soltanto quando ho fatto i 40 anni di età, sapendo che a quell'età uno non può più riprendere a combattere, soltanto i 40 anni compiuti, mi ricordo che ho brindato e ho detto Ora ho vinto, ora non posso più soffrire, non ho più motivo di soffrire perché non potrò più tornare sul ring, perché temevo sempre di cedere, perché era troppo grande la mia voglia di combattere. Carlos, capisco che è una domanda difficile, ma si soffre più sul ring o nelle difficoltà della vita di ogni giorno, della vita quotidiana? No, come dice, si estragna per il ring o... Se tu ti trovi nel ring, non per quello che riguarda Carlos Monzon, ma in genere è molto più difficile affrontare le difficoltà della vita quotidiana o salire sul ring. No, 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 per nada perché... No, nemmeno perché io avevo anche altre attività da seguire, io avevo un'agenzia, una concessionaria di auto importate, quindi io non ho mai avuto questa idea di continuare, no, mi avevo occupato, facevo del food, del food la mattina, quindi non avevo modo di pensare. Ora invece sto... ma ora... no, ora mi sono preparato. Io chiederei una piccola acrobazia alla regia perché vorrei salutare due amici di questi due grandi pugili, sono Bruno Amaduzzi e Tito Lectur, che sono stati accanto a loro nei momenti più felici e anche nei momenti più tristi della loro carriera. Ebbene, sono qui questa sera non soltanto per accompagnare Bruno Amaduzzi, Nino Benvenuti e Tito Lectur, Carlos Monzon, ma perché a questi atleti, sia Tito Lectur che Bruno Amaduzzi, sono rimasti attaccati, sono rimasti, diciamo, amici come ai vecchi tempi. Cioè, continua questo sodalizio che è nato sul ring, che è nato in palestra e continua a distanza di tanti anni. Io vorrei proprio fare un applauso a Bruno Amaduzzi e a Tito Lectur. Bene, accanto a me avrete visto un baffo che non vi è passato sicuramente inosservato, c'è Gianni Minà, una volta tanto costretto in una sedia, in una posizione da osservatore e non mattatore sul palcoscenico come è abituato a fare. Accanto a lui, vedete, c'è Dario Torromeo e poi un grande saggio del pugilato, Roberto Fazzi, direttore di Boxering, un uomo che ha seguito i più grandi campioni di tutto il mondo, forse l'uomo che conosce più di ogni altro tutti i segreti di quella che è stata chiamata la nobile arte. Intanto Gianni Minà, una tua impressione di questo incontro in una trasmissione che non è certamente un ring, che non è una trasmissione sportiva, ma che in qualche modo mette di fronte uno all'altro, tanti anni dopo, due campioni ma soprattutto due uomini con esperienze di vita tanto diverse. Quello che mi sorprende di più è la tenerezza di Carlos Monzon. Carlos ha detto io ero un duro nella vita ma ero un computer sul ring, in realtà lui non era nemmeno un duro nella vita, lui era uno che aveva dei momenti di passionalità ma qui ha dimostrato di essere tenerissimo. Lui non è vero che era quel tremendo, cattivo che tutti dicevano e qui lo ha dimostrato, è venuto e ho visto la sua emozione, la commozione di incontrare Nino, l'avevo già visto altre volte. Credo che Monzon ha sfatato con gli anni la leggenda, noi quando abbiamo visto battere Nino forse non l'abbiamo amato subito. Io come giornalista all'inizio, credo anche lui mi guardasse un poco con diffidenza, ero il giornalista al seguito di benvenuti, però so una cosa, l'ultimo giorno che lui ha lasciato la box io sono entrato nel suo camerino prima che finisse il match sfidando i famosi poliziotti di Monte Carlo che solitamente picchiano più dei nostri e lui è entrato, ha chiuso, non c'era nessuno nel suo camerino, mi ha visto, mi ha fatto la faccia cattiva e ho detto adesso mi vena, è finito. E il maestro, e va bene. E beh, di fronte a Gianni Milano poteva fare altro. E in quel giorno fece uno dei più bei servizi per il nostro telegiornale. Sulla scena mondiale, dopo che Carlos Monzon era uscito, perché altrimenti non avrei avuto molte speranze. Adesso volevo chiedere un giudizio al volo, sempre a Carlos Monzon, su Tyson. È veramente un grandissimo pugile come dicono o no? Chi è? Tyson. No. No. Continua a colpire anche... È un bocciatore inflato. È una montagna di carne gonfiata perché in... C'era, faceva parte di un tempo fa, c'erano due campionati, uno Mohamed Ali, Grayson. Ci sono stati vari campioni e in questo momento non c'è niente che potrebbe sbarrare la strada. Eccolo, la grande sfida per Esplorando... Signore e signori, benvenuti alla sfida del secolo. Questa sera per il campionato mondiale pesi medi, alla mia destra, Carlos Monzon, Argentina, contro Nino Benvenuti, Italia all'angolo di sinistra. L'incontro si riuscita molto emozionale con contenuti tecnici e spettacolari di Autoridea. Un grande aplauso. Sì, no. Sì, no. Sì, no. Sì, no. Sì, no. Sì, sì, no. I colpi come vedete sono veri, ricostruiti dal computer riprendendoli da colpi che sono stati effettivamente portati in combattimento. Vediamo la potenza, Monzon 57%, benvenuti 43%. Per la tattica la grande sfida vede Monzon con 48 punti e benvenuti con 52. La varietà dei colpi, Monzon 46%, 46 punti, benvenuti 54. La grande sfida, altri elementi che vanno considerati. Il fisico, 51% per Monzon, 49% per benvenuti. La carriera, 56% per Monzon e 44% per benvenuti. Il sondaggio degli esperti, 49% per Monzon e 51% per benvenuti. Ed ecco il risultato finale di questo sondaggio, di questi due grandi campioni. Nino Benvenuti e Carlos Monzon. Vedete l'arbitro, alza il braccio a Carlos Monzon, 146 punti a 145. E risulta quindi il vincitore anche attraverso il computer. Dite che vi siete divertiti, Carlos. Bene, devo dire a un certo punto, mi sposto leggermente, mi sono ricordato che quando ho detto 54 colpi, la varietà dei colpi, 54 punti per benvenuti e 46 per Monzon, ho seguito alle mie spalle perché ero girato, uno strano respiro di Monzon e ho tremato perché ho detto potrebbe ritenermi responsabile di questo eccesso di vantaggio per benvenuti. No, però se la computadora dava... No, ma se il computer dava... No, ma se il computer dava... No, ma se il computer dava impatti. Un impatti colpi uguali. Il corpo è diverso, no? Ha detto che nonostante sia mezzanotte un quarto, se per caso il computer avesse dato pari assoluto, si sarebbe tolto la giacca e avremmo assistito a un terzo e definitivo combattimento. Comunque io volevo ringraziare veramente Carlos Monzon, è venuto esplorando dall'Argentina insieme con Tito Lecture, perché questa sera ci ha aiutato a scoprire un altro uomo. A distanza di anni è bello ritrovare un uomo che è stato un grande campione sul ring e che soprattutto ha dimostrato di saper affrontare la vita con lo stesso spirito, con la stessa serenità, con la stessa obiettività e anche con una grande fiducia verso il futuro. E stasera abbiamo rivisto anche un Nino Benvenuti che, devo dire, sembra un uomo, un atleta sul quale gli anni scivolano, o no? Abbastanza comunque, ci sono tutti. E il nonno. E il nonno. E il nonno. Ciao Nicolai. Io mi sposto, sono mezzanotte e un quarto, la nave di Esplorando è arrivata in un punto che non è un punto determinato, non volevamo certamente dire nemmeno per scherzo stasera che un pugile è migliore dell'altro, che un uomo è migliore dell'altro, volevamo percorrere insieme un tratto di strada, una delle tappe che Esplorando fa alla ricerca non soltanto di curiosità ma di meraviglia, alla ricerca soprattutto di quello che potrebbe essere un migliore rapporto di tutti noi con la vita e con i mille problemi che ci circondano. Volevo invitare qui accanto a me, mentre parte la sigla di coda, Belas, Carlos Monzon, Nino Benvenuti, un grande applauso, Tito Lectur, bene, Tito Lectur, Bruno Amaduzzi, e poi Torromeo del Corriere dello Sport, ciao Tito, Bruno Amaduzzi, Leo Torromeo, Gianni Minà, il grande saggio della box, ciao Gianni, e poi ancora gli uomini che ci hanno accompagnato stasera alla scoperta del tesoro della ricca, il professor Lombardi Satriano, e poi il sindaco di Bisignano, Eric Furugard, bene, la vita è bella e va presa come uno sport, come una grande caccia al tesoro, e il tesoro è la serenità, che credo ci dovrebbe accompagnare sempre, grazie, arrivederci a tutti, e ci vediamo giovedì prossimo, bravo, bravo, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti,